È stato un capodanno in compagnia di alcuni VIP, quello appena trascorso in alcune zone del territorio aretino. Loro, attori, registi e persino un ministro, sono talmente stati bravi da non farsi paparazzare, ma gli avvistamenti ci sono stati ed ecco che con il racconto di alcuni nostri telespettatori e con le notizie apparse sulla stampa locale, proviamo a ricostruire le tappe di un capodanno da VIP. Monica Bellucci, che come tutti sanno è originaria di città di Castello, ha trascorso il capodanno al Castello dei Sorci. Felice l'amico Primetto Barelli, che per l'attrice ha pensato ad una serata all'insegna di Sapori Toscani. In tutto 20 persone, una cena intima che ha reso un po' più speciale questo capodanno in Valtiberina. A Cortona è invece arrivato Gabriele Muccino con la moglie Angelica Russo. Alloggiavano nella suite già prenotata alla Corte dei Papi e poi a casa Sole e Luna per trascorrere il capodanno con l'amico Lorenzo Giovanotti e tutta la sua famiglia. Ed infine il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, avvistata il primo gennaio in quel di Cortona, pare fosse ospite ad un pranzo di un noto giudice. Su questa notizia però non abbiamo altri particolari. La Cancellieri è stata soltanto avvistata dopo pranzo, mentre accompagnata dalla scorta si allontanava da Cortona.